Bella raga siamo qui con la nostra nuova app youtuber go per cercare i nostri youtuber adesso nei dintorni dovrebbe esserci mai più di tempo oh ma è lui vieni no 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 marco marco scendi dai facciamo una foto scendi esemplare di una cina è un esemplare molto delicato sento dei passi oh ecco andiamo a prendere ti catturerò cazzo la pokeball ti prenderò